Un carnevale che afforcella come a San Giovanni per la prima volta nella storia della città Il carnevale di Napoli abbiamo festeggiato e organizzato insieme ai quartieri Sono dei carnevali che entrano nella rete dei carnevali sociali della città Oggi in modo particolare Forcella ha risposto con una grinta, un'energia incredibile Ed è stato un lavoro di coordinamento con i comitati di quartiere, con le associazioni che qui operano Ma soprattutto con il grande dono degli artisti, ballerini e circensi Che riconosciuti dal Ministero della Cultura Cubana Sono a Napoli per uno spettacolo meraviglioso Circuba Che oggi è incontrato in modo unico e speciale, anche indimenticabile per noi, Forcella Grazie 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 !